Sì, vorrei accennare ad una problematica molto importante svolta e presa in considerazione da questo assessorato che è quella di venire incontro alle problematiche abitative e ai disagi abitativi degli studenti universitari che ovviamente sono una componente molto importante dei cittadini di questa città. La problematica è quella dell'alloggio e naturalmente le soluzioni che vengono offerte attraverso l'assessorato sono soluzioni basate su un contributo per l'abbattimento dell'ICI offerto ai proprietari i quali decidono di affittare alloggi o altre soluzioni, stanze arredate, soluzioni di tipo diverso a studenti per i quali vengono applicati canoni concordati, basati su tabelle concordate con l'amministrazione comunale. C'è un contributo che quest'anno raggiunge il 50% dell'ICI pagata dai proprietari e un dato estremamente interessante è quello che vede sempre più domande presentate per ottenere questo contributo. Questo è dovuto al fatto che sempre più la proprietà si rende conto che questo tipo di intervento permette non soltanto di ottenere il contributo stesso ma anche di procedere con la trasparenza e con la chiarezza che non può che avere anche ricadute positive sulla proprietà stessa. Quest'anno le domande che sono state presentate, le ultime sulle quali abbiamo poi erogato i contributi sono state 284, parlo delle domande valide, 284 e ha visto un ulteriore incremento rispetto all'anno scorso quando c'erano state 241 domande presentate e un dato anche molto importante è quello che le domande che vengono non accettate stanno raggiungendo una stabilizzazione, il che significa che i proprietari che accedono a questo tipo di beneficio stanno diventando sempre più consci delle procedure corrette per poterlo ottenere e quindi presentano domande prive di quegli errori che in alcuni casi portano appunto al rigetto della domanda. è una azione penso questa del comune che ha anche delle ricadute positive su altri piani e cioè quello dell'emersione dei contratti che in altre condizioni tenderebbero magari a diventare contratti con componenti irregolari e quindi anche da questo punto di vista direi che c'è un qualcosa di positivo ripeto per le proprietà che in questo modo possono regolarizzare le loro posizioni, possono cogliere diciamo questa occasione per regolarizzare la loro posizione ma c'è anche una ricaduta positiva per il comune perché questo fa emergere degli contratti e quindi dell'ICI che altrimenti potrebbero rimanere diciamo nelle pieghe di attività in nero.